qui presente perché ritengo questo incontro estremamente importante e soprattutto in questo momento lo ha detto molto bene Luigi eh questa è una situazione tragica è uno dei momenti più bui del del sistema questo perché però e questa è la buona notizia il sistema è allo stremo cioè sta finendo tutte le sue cartucce non si può neanche più permettere la democrazia quella che sbandiera no come il vessillo per cui porta avanti i guerre e la difesa della delle dei nostri valori e della nostra eticità con l'accordo con Erdogan siamo arrivati penso al punto più basso in assoluto dell'Occidente e questo però ci dà il senso e la misura di quanto sia in affanno questo sistema in quanto sia fragile perché chiaramente quando più si è aggressivi e quando più si attacca e e si e si eliminano tutti quelli che sono gli elementi possibili di democrazia di partecipazione di dissenso vuol dire che si ha paura quindi il sistema ha paura e noi su questo dobbiamo fare la nostra riflessione più importante perché il sud e il sud del mondo sono sempre in affanno io provo sicuramente indebitamente a dare un'altra lettura della lettura solita e perché il sud e il sud del mondo non solo sono quelli che hanno subito questo modello in maniera più chiara ma sono anche quei territori che hanno opposto una resistenza la resistenza che abbiamo visto a Napoli negli ultimi dieci anni a quello che è una necessaria obbligo di privatizzazione e di svendita del patrimonio pubblico ha visto con Luigi De Magistris una resistenza al sistema Luigi ha elencato tutti quelli che erano alla opposizione del suo governo e cosa ha dovuto subire in quei dieci anni perché possiamo portarlo oggi a esempio questo queste queste due eh amministrazioni proprio perché si è riusciti con tutti contro a resistere per l'acqua pubblica per la svendita dei beni eh immobiliari e beni pubblici perché questo sistema sta attaccando i servizi pubblici e i diritti perché oramai la favola del libero mercato con una produzione illimitata e lineare e senza come dire senza fine ha avuto la sua fine cioè si è scontrata contro il muro no? Eh eh ha avuto la sua il suo lancio con la caduta del muro di Berlino ma si è scontrata nel duemila e otto almeno nel muro definitivo perché le crisi sistemiche che erano decennali e poi che si sono accorciate sul sul biegno e poi sul sul annuali sono diventate sistemiche strutturali perché chiaramente una produzione lineare infinita non troverà sempre all'offerta una una domanda altrettanto eh capace di tenere in vita questo mercato e quindi questo sistema ci si è spostati sulla finanza quella quella eh quella che gira con dodici volte il valore economico del PIL mondiale del PIL mondiale però neanche quella con le sue bolle economiche finanziarie immobiliari è riuscita a superare la crisi allora l'unica possibilità che ha il sistema per sopravvivere è quello di puntare a quelli che sono i diritti e i e i beni comuni ecco perché adesso c'è questo attacco così sferrato quando vi dicono che se il privato non vi piace il privato ve lo dovete comunque tenere perché non c'è alternativa e perché non c'è alternativa per loro perché noi se diciamo che la scuola pubblica che se anzi no che l'istruzione non è più un diritto e la privatizziamo avremo chi non potrà più permettersi l'istruzione ma ci sarà sempre chi a differenza dei beni materiali dovrà accedere pagherà qualunque cifra per accedere all'istruzione se la sanità non è più un diritto allora alcuni non si cureranno e moriranno prima ma altri pagheranno qualunque cifra quindi mentre i beni materiali che si accumulano non trovano una mercato sicuramente i beni comuni e i servizi diritti lo troveranno sempre così l'acqua l'acqua che sta da da parecchi decenni diventando sempre più un bene raro e ci rendiamo conto io vengo da una missione in Val d'Aosta i ghiacciai si stanno sciogliendo a una velocità doppia di quello che si era creduto lo scenario duemila e cinquanta è già oggi cioè oggi al duemila e ventidue abbiamo lo scenario che gli studiosi si erano prospettati per il duemila e cinquanta questo significa che non avremo più acqua potabile avremo sempre di meno non ci sarà acqua per tutti non ci sarà quindi la possibilità di avere cibo medicine e anche allevamenti per tutti quindi pochi pochi si stanno organizzando per come dire eh creare una sorta di riserva per per loro e tenere tutti gli altri fuori questo è chiarissimo è chiarissimo anche la la scelta di avere eh di di muoversi con la shock economy in pratica no? Quello che ci raccontavano già qualche decennio fa e l'abbiamo visto con la pandemia lo abbiamo visto con la guerra l'abbiamo visto adesso che si parla di una nuova emergenza l'emergenza siccità e e questo chiaramente non fa altro che impoverire sempre più le parti povere del mondo quindi il sud Italia ma il sud del mondo quindi la nostra situazione italiana quello che può essere la nostra prima tappa che può essere il il cartello elettorale che non è che una tappa del processo che è molto più lungo a divenire no? Per il futuro si deve collegare necessariamente a un discorso globale noi ci dobbiamo collegare con tutte le altre realtà simili nel resto del mondo perché siamo in un in un paese in un mondo in un globo ormai interconnesso e quindi noi da soli non riusciremo mai e l'Italia in particolare lo sa dal quarantacinque no? Con Moro abbiamo avuto la tragedia col cinque stelle abbiamo avuto la farsa ma la 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 situazione è la stessa scelte diverse da quelle che sono già state fatte altrove non si possono fare e quindi ci sarà sempre un commissariamento di un parlamento futuro laddove un popolo vada a votare una per volontà politica un altro sistema noi dobbiamo analizzare quello che è successo col cinque stelle mi dovete scusare non non ci dobbiamo limitare a guardare di maio con chi va o conte sia una bandieruola dobbiamo capire cosa è successo perché il cinque stelle ha avuto nel duemila e tredici il venticinque per cento di consensi nel trentatré e nel diciotto il trentatré per cento di consensi cosa è accaduto perché è stato manomesso questo movimento dove è finito quell'elettorato cosa chiedeva quell'elettorato e cosa gli è stato dato questa è una domanda che ci dobbiamo fare un'analisi e dobbiamo cominciare a fare concludo dicendo che noi abbiamo fatto due disegni di legge che è chiaro non verranno discussi non verranno portati a a termine sicuramente uno è quello che veniva anche citato della della eh costituzionale della eliminazione del comma terzo articolo centosedici perché non è proprio il caso di parlare di autonomia differenziale non farle bene chiariamolo non farle bene non vanno fatte oggi dopo la pandemia con la guerra non è possibile l'otto per cento di inflazione sarebbe la fine la fine globale e un altro sui beni comuni perché noi sui beni comuni non abbiamo un'interpretazione costituzionalmente orientata ma ci rifacciamo ancora al codice civile di albertiniana memoria quindi precedente della costituzione quindi le leggi sulla sulla proprietà privata sono errate non sono costituzionali perché i beni comuni non appartengono all'ente l'ente che se li svende è un ente che fa qualcosa svendendo robe che non gli appartengono e questa è una cosa importantissima da mettere in grazie mille a paola no no